Daniele è un giocatore fondamentale per la Roma, l'ho detto da subito. Ho parlato con lui e non ho nessun dubbio che la sua intenzione sia di continuare e di impegnarsi qui. Spero che questo suo desiderio arrivi anche alla società. Credo che il rinnovo ci sarà e che Daniele in questo momento pensi solo ad allenarsi e migliorare. Per quanto mi riguarda penso a costruire la mia squadra. Il rinnovo rimane una situazione tra il plato e il giocatore. Ma è evidente che De Rossi è un giocatore importante e che voglio continui con noi. Per me è un regista e anche un interno. Dipende da quale situazione. Ma è un regista che è sempre giocato come regista. Il suo ruolo può essere anche da interno, dipende dal momento, dalla partita. La disposizione che abbiamo nel partito.